Let's play Let's play Let's play Let's play Ok, siete spacciati, tu sarai l'ultimo Allora, cominciamo da... No, un attimo, chi è che mi aveva detto per primo che sono pronto e carico come una molla? Ok, Cipolla Show Ok, è il turno di Cipolla Ed ecco ragazzi Ok, scusate se suona il cellulare ma devo tenerlo qui davanti a me per forza Perché mi stanno scrivendo proprio qui su Telegram Allora, la pomo sarebbe Cipolla Io ho il mio Pincel, vedete, è già pronto E lui è già bello che è pronto Siamo pronti per la sfida E mancano 34 secondi Siamo... Ma perché siamo tutti uguali in questo server? In ogni caso, io sono pronto Aspettiamo per l'oppone... Che... Con cosa mi stai sfidando? Ok, un livello Trent Dai, iniziamo È stato gentilo Absol Ah, ok È questo Absol Molto figo Ehm... Attenzione Non voglio fare la figura di merda che ho fatto Non siete spacciati Che non mi decido a fare le mosse E poi passa il tempo E prendo botte brutte Taunted Che cacchio si... Uh, uh Gli ho tolto mezza vita 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 A lui, oh Eh, come... Uh, aspetta che... No, 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 no Attenzione, attenzione No, no, no Non posso perdere Porca di quella paletta Uh, sì, ho vinto Ho vinto Ho vinto Ti ho massacrato l'Absol selvatico Madonna che godo Ma io come godo Stava per morirmi brutto il Pinsir Ed ecco, signori Siamo al secondo sfidante Il primo è caduto malo malo Dai, era il primo Cioè, si sa Può capitare Che si cade brutto E poi Apprezzo che non ha usato Un Pokémon super gigantesco Era solo un Blu più due Di livello trenta Ora Contro Jekton Allora, lui mi ha già detto Che vuole usare Geridos Ah, non ha usato Geridos Oh, allora vale sta sfida Perché Geridos me l'avrebbe one shotato Brutto brutto Sti cazzi Trecento tre No Contro Mach Non c'ho la debolezza Donazione E penso che vi farà tanto 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 No Sì Ciao ragazzi Non morirò mai No Non morirò mai Non morirò mai Cioè, no Io Io morirò E lui che non morirà Sì, vabbè Questo comincio Ho capito Io comincio a fare Arden Lui si fa dodge E io faccio Arden Ecco Io faccio Arden E tu fai dodge E aumento la difesa No, mi ha avvelenato Il pezzo di merda Eh, ma Ma sei un pezzo Di cacca brutta Eh Sono morto Perché ha fatto Si è portato a dodge Più sei Mi ha avvelenato Mi ha tirato una roba Cioè, sono morto E non riesco a colpirlo Cioè, ma che cosa è Non parla Ma che cazzo Di pokemon Di merda È diventato Tipo Ragazzi Ragazzi Terzo sfidante Siamo a Fading Wall Allora Per il momento Siamo uno pari Uno per il mio Pinsir Uno per voi Che mi avete battuto Eh Questo sarà probabilmente Il combattimento decisivo Anche se dopo ci sarà Il combattimento Con siete spacciati Che Insomma Potrebbero succederne Succederne Non so più gli accenti Insomma Di belle Di belle L'importante è che siano belle Fading sei pronto? Fading sei pronto? Sì Ecco È un risposto Fading Wall Ringraziamo Siete spacciati Per aver prestato La voce a Fading Wall In questo video Cazzarola Contro No C'ha Rizard No C'ho la debolezza Contro Ma perché Ti picchio male Ti picchio malissimo Ma quanto ci godo Che ti picchio male 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 Oh Sì Tu pensa Ma perché sono venuti Tutti addosso a te? Che senso tutti addosso a me? C'è fuori Una Marea di gente Addosso a te C'è anche uno Con la Top Guild Non lo so Forse hanno visto il mio Entei C'è Jack Ah c'è Jack Ah c'è Jack C'è la pomo Il radiono degli entei Comunque Il mio C'è un dito Bellissimo Questo è tuo Siete spaccià? Sì Che figata Ok Ci stanno Ci stanno Tutti gli entei Tutti Il raduno degli entei Ma tu aspetta Devo fare la screen Devo fare la screen Aspetta che ora Trasformi il mio Dito Devo fare assolutamente Ferma Ferma Non ti muovere Che c'è il quarto entei Fermi tutti Chi è questa qua? Come si chiama? È una signorina La voglio conoscere Signori Signorina Signorina Venghi Vedi Ho trasformato Il mio ditto In un entei Come hai fatto? Comunque Ho aggiunto la signorina Agli amici Ok Ci sono troppi entei Qua per i miei ghosti 150 milioni di entei Io continuo a fare screen Ragazzi Siamo a 2 a 1 Per me Ora Se non c'è nessun altro Su telegram Partirà la sfida Decisiva Con siete spacciati Attenzione ragazzi Un nuovo sfidante Che non c'è su telegram Ma mi ricordo Che Mi aveva detto Di sfidarmi Ed eccolo qui Anatoli Stiamo Per il momento 2 a 1 Per il mio Pinsir Vedremo Aspetta ma io gli ho detto Vabbè Io lo sfido Se è fuori dalle regole Poi glielo dico Insomma Che dovrai avere il pokemon Livello 35 massimo Speriamo bene Speriamo bene Chiesa cosa mi capita Mi capita un Mewtwo Distruzione Itmonchan Livello viola Sti cazzi qua Eh se vabbè Itmonchan Livello 46 Ciao Che cazzo gli racconto Se vinco contro questo Ragazzi Cioè Eh ciao One shot Che cazzo Aspetta un attimo Che devo un attimo Scriverglielo Però non vale Così Allora signori Anatoli dovrebbe Aver selezionato Un pokemon Di livello 35 Quindi Ora Facciamo partire Un Jolteon Ok Ok Ce la possiamo giocare Bello Jolteon Mi piacerebbe Averlo avuto Anch'io Avercelo avuto Anch'io Vediamo come va a finire Jolteon è super veloce Quindi penso Che mi attaccherà Per primo lui Sicuro Ecco Ok Oh gli faccio Tanti danni belli Mamma mia Ma il pinzio Ma sto pinzio Ma cazzero La mardaccia Ti prego No ho perso Ho perso Voglio una mossa Velocissimissima Ti prego La più veloce Che c'hai Che cosa c'hai Ti prego No Dannazione Ho perso Per un pelo Cazzo No Allora Siamo due pari Ok Siete spacciati Me lo lascio Come ciliegina Sulla torta Sarà quello Che mi farà Rosicare Già lo so Perché all'ultimo Tipo l'ultimo Combattimento C'è il massacro Più totale Allora detto questo Al momento Siamo due Per il mio pinzio Contro Due Per voi Ora siete spacciati Sposterò All'arco della bilancia O verso il mio pinzio O verso di voi Ed ecco signori La sfida decisiva Siamo Io Contro Siete spacciati Dove cazzo stai Spacciati PK Pronti Per la sfida Pronti Per la sfida Eh 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 Attenzione Che lui lo potrete sentire in diretta Bestemmiare tutte le lingue del mondo Anzi forse bestemmiero io Appena vedrò che Pokemon mi ha messo Che Pokemon mi sta mettendo Sto stronzo Che Che mi stai mettendo Eh Oh perché non mi piace Per Perché non mi No Questo non posso farci un cazzo di mosse Contro Devi far No 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 Ehi dai Non vale Che cazzo faccio tutta la partita Eh dai Non vale Non posso attaccarti Vaffanculo Ah no L'ha usata L'ha usata Ah non posso attaccarti Ma che cazzo ti faccio Ma che cazzo ti faccio Ah ma E non vale Ho finto Ma fanculo No Cambia Pokemon di merda Va a cagare Cambialo Vabbè avete vinto voi Andate a cagare Ma cambia quel Pokemon Tannazione Ragazzi visto E' la forza E' la forza La forza di sto cazzo Ma che cosa Volevo almeno giocarla La sfida Perché ti ho detto Avrei scattato anche Quelli Il monchan Dannazione Ma dove l'hai presa Quel Pokemon A Safari Voglio quel Pokemon Tu e la tua Dannata squadra Di Pokemon Buggati Quelli sono i Pokemon Buggati eh Sì Muoviti Accetta Sì cambia Pokemon Però Perché Perché E' una questione Di principio Voglio Cazzo Avere una sfida decente Non fa niente Io non ho detto Al 35 Ho detto Massimo 35 Tu puoi anche Usare un Pokemon Livello 1 Anche un Magikarp Livello 1 Va benissimo Ok Ora Siete sfacciati Ha scelto praticamente Un Pokemon Random Da quello che ho capito Dai Entei Come non sai Che mosse abbia Ma dai Come fai a dire Che non sai Che mosse ha Che poi te lo massacro Vabbè Però Il pinzer Mi batte Leggendario Si ma Si ho Ci ho Facuto Io prima E' quella che vale No ma è a cagare Tu c'hai i Pokemon Schifosi Ok ragazzi Penso che siamo Giunti alla fine Di questo video A meno che Non ci sia Altra gente Che mi deve sfidare No Non c'è più Nessuno Che mi deve sfidare Se vi piacciono Video Sfida Video Tipo di Tipo questo Challenge Cose di questo tipo Scrivetemelo nei commenti Fatemi proposte così Li organizziamo magari Sempre di domenica Tramite il gruppo Telegram Vi invito ad entrare Nel gruppo Telegram Perché possiamo organizzare Molto più facilmente Queste cose super divertenti E Se sei arrivato Se ti è piaciuto questo video Lascia un like Commenta e condividi Ma soprattutto Se sei arrivato fin qui Scrivi nei commenti Hashtag Sableie merda Sableie merda Hashtag Sableie merda No Sableie merda Siete spacciati Lo è di più Hashtag Siete spacciati Lo è di più Potete usare Il doppio hashtag Perché usi pokemon Che non posso attaccare Dai a cagare Ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti Comunque Ho battuto anche Quelli L'hai sfidato Con Nightshade Sì Maledetto Ciao a tutti Grazie a tutti.